e adesso andiamo subito a treviso per un evento eccezionale straordinario veramente carico di cultura carico di sport e carico di musica ma anche grazie a tutti se è insuperabile è un evento unico nel suo genere perché include l'attività sportiva e tutti sono capaci di fare l'attività sportiva ovviamente ma include all'interno dell'attività sportiva la promozione dell'intelletto del ragazzo diversamente abile attraverso la cultura attraverso l'arte la musica questa è l'inclusività quello di rendere vivo in ogni ragazzo quell'elemento potenziale che magari non conosce è nascosto che noi vogliamo far emergere e allora grazie a quelle persone che hanno messo a disposizione laboratori musei gipsoteche conservatori perché hanno reso questa edizione un'edizione insuperabile e allora grazie a tutti 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 grazie a tutti